Nello splendido scenario di Castel dell'Ovo trova spazio l'originale progetto artistico del pittore ed illustratore modenese Fabio Govoni, dedicato al cinema biografico. Nei suoi dipinti i grandi personaggi dell'umanità nei volti presi in prestito dai divi del cinema. Ancora Marco Martone. Si intitola Biopics 3TN, la mostra evento inaugurata a Castel dell'Ovo dell'artista Fabio Govoni, 50 opere uniche su tela e pregiata carta da Malfi, omaggio al cinema biografico e ai suoi grandi interpreti. Una mostra a cura di Nello Arionte in cui saranno previsti appuntamenti di approfondimento a cura di Napoli Film Festival e Disco Day, un'iniziativa che si avvale del supporto di Biografilm Festival e Bell'Arte. Questa è una sintesi di queste opere che si sono poi sviluppate nel tempo, dal 2012 fino ad oggi, con una serie di lavori molto particolari legati all'illustrazione e al fumetto che sono gli indici di caratterizzazione artistica proprio di questo autore. La serata evento ha visto l'intrattenimento musicale di Lunare Project con DJ set di Roberto Barone e Lupo di Mare, sulle terrazze, le videoproiezioni e denamiazioni digitali contenenti alcune immagini delle opere in mostra. L'autore attraverso le sue opere dimostra il suo grande talento e in più una mostra curata per unire insieme non solo pittura ma anche musica, cinema e quindi un evento culturale e artistico di altissimo livello. Io nelle ultime opere voglio parlare della tecnologia, del progresso, di come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere e soprattutto ci sta cambiando anche biologicamente, cioè la nostra soglia di attenzione si è abbassata, la nostra capacità e volontà di approfondire i discorsi sta venendo meno. Questo in sintesi diciamo.